Oggi passeggiata al Poeto di Cagliari. Il Poeto è la spiaggia più frequentata dalle famiglie di Cagliari e non durante la stagione estiva. Si estende per circa 12 chilometri dalla sella del diavolo sino all'inizio del litorale di Quartu Sant'Elena dove prende il nome di spiaggia di Quartu o Poeto di Quartu. Durante la camminata è possibile trovare di fronte a noi l'ex ospedale marino costruito in epoca fascista ed oggi totale abbandono. E subito dopo c'è la torre d'avvistamento costruita nel Cinquecento dagli spagnoli. Il lungomare non è frequentato solo nelle giornate estive ma tutto l'anno. Infatti quando c'è bel tempo sono tantissime le persone che vi si recano per fare attività sportiva. Per chiudere in bellezza la passeggiata entriamo in spiaggia attraverso uno dei tanti passaggi che troviamo vicino ai chioschetti. Ed infine vista sulla sella del diavolo uno dei simboli di Cagliari. Grazie. Grazie. Grazie.